Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Sostizio d'inverno, pressione atmosferica in calo, veloce passaggio piovoso sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 21 dicembre. Sul Veneto sarà in prevalenza nuvoloso in pianura, sulle zone montane nubi più irregolari alternate a schiarite al mattino. Saranno poi probabili delle deboli precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio con eventuali nevicate oltre i 2000 metri. Temperature in lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime invece comprese tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui, come vedete, la grafica ci mostra che il cielo sarà nuvoloso, non del tutto esclusa la possibilità di debolissime precipitazioni, tuttavia piuttosto isolate. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità coperto ma asciutto inizialmente. Piogge deboli e sporadiche nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.